Buongiorno a tutti dall'Agenzia Immobiliare Casa Cerea, l'Agenzia Immobiliare di Cerea. Siamo a Casa Leone in una zona limitrofa al centro in zona di aperta campagna dove vogliamo proporvi un complesso immobiliare all'interno di un lotto di 7200 metri quadrati. Il lotto viene diviso in tre parti, la prima dove è ubicata l'abitazione, un'abitazione di grandi dimensioni risalente nel 1800 finemente ristrutturata nel 98. La parte centrale dell'otto è caratterizzata da un rustico di 200 metri quadrati multiuso, rimasto praticamente originale e molto interessante. Tra l'altro questo rustico è stato già sottoposto a un progetto di trasformazione in abitazione. La parte finale dell'otto è invece interessata da un'ampia scuderia attrezzata e perfettamente funzionante e adeguata alla normativa. Una scuderia con 10 posti cavallo. Entriamo nel merito dell'abitazione. Si tratta di un'abitazione di 280 metri quadrati su due livelli, più una parte di accente, uso garage e ripostiglio nel vecchio fienile di 70 metri quadrati circa. All'interno si sviluppa con grandi ingressi una scala doppia per salire il piano primo, un salone molto grande, rustico, dove insiste un grande camino. Nella zona notte abbiamo tre cameretto ampie, una quarta camera. Al piano terra abbiamo un bagno di ampie dimensioni e al piano primo un ulteriore bagno molto grande che è a disposizione della zona notte. Per quanto riguarda gli impianti c'è da segnalare che nel tetto della zona fienile è stato ubicato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di 5 kilowatt. Per quanto riguarda invece l'impianto di riscaldamento, abbiamo un impianto di riscaldamento normale aiutato da una stufa idropellet collegata all'impianto di riscaldamento. Insieme abbiamo il camino che è dotato di impianto di ventilazione. Per quanto riguarda la finitura della casa sono state eseguite in modo da mantenere intatta la predisposizione rustica dell'immobile, quindi vicino all'originale, ma rinnovato in tutte le sue parti. Per quanto riguarda il prezzo di questo complesso si parla di 400 mila euro, un prezzo che viene valutato molto interessante visto tutto quello che viene offerto all'interno di questo lotto. Da dire un'altra cosa che le tre porzioni possono anche essere vendute separatamente, quindi se vogliamo possiamo vendere la casa separatamente, il rustico separatamente e la scuderia separatamente. C'è da segnalare inoltre che all'interno della struttura dal 2008 esiste un servizio di bed and breakfast attualmente funzionante e che verrà ceduto nella vendita stessa. Chi potrebbe essere interessato a questo immobile o a parte di questo immobile ci può chiamare, siamo a disposizione per fissare un appuntamento quando volete. Grazie, arrivederci.